Bene, oggi vorrei parlare un po' con voi di rinnovi di mercato, di strategie dei vari club nei rinnovi di contratti. È stata un'estate nuova, diversa, un'estate di rinnovi mancati, di molti parametri zero e di situazioni diverse. Io credo che anche all'interno di queste situazioni diverse, dei vari club, ci siano mosse giuste e mosse sbagliate, che così possiamo provare ad analizzare insieme. Strategie di mercato diverse, partendo da un presupposto, e cioè tutti i club fanno cose giuste e cose sbagliate. Naturalmente ci sono tifosi che vogliono sentirsi dire solo che il loro club ha fatto bene, che ha ragione, che la colpa è sempre degli altri, ed hanno i loro giornalisti di riferimento. Poi ci sono, secondo me, anche invece tifosi che sono disponibili a dire bravi in questo o male in quest'altro, come in tutte le cose della vita. Il club perfetto non esiste, non esiste il perfetto dirigente e quindi si può, secondo me, in buona fede, a volte lodare un'iniziativa di un club, altre volte invece magari essere critici. Ecco, parliamo proprio dei rinnovi mancati. Io credo, e naturalmente nessuno ha le chiavi della verità in tasca, tantomeno io, le mie sono impressioni, diciamo, che condivido con voi. Io credo, per esempio, parliamo un po' di Inter e Juve Milan. Ecco, il Milan è stato l'emblema di alcuni rinnovi giusti e altri invece completamente falliti. Avere fallito non sempre una colpa, a volte però sì, è stato giusto rinnovare a Calabria, però all'interno di tutti i rinnovi che il Milan non è riuscito a portare a termine, ecco, possiamo dire che alcune volte ha avuto ragione, perché erano rinnovi impossibili. Facciamo l'esempio di Donnarumma, Donnarumma voleva andarsene via, perché questa è la verità, che poi è stata sottaciuta perché sembrava quasi impossibile, no? Ma in realtà Donnarumma voleva andare a giocare in un club di levatura diversa. E purtroppo va detto che il Paris Saint-Germain, rispetto all'attuale Milan, gioca un altro campionato a livello internazionale. È una squadra che se va male arriva in semifinale, se va bene arriva in finale, direte non la vince, però prima o poi vedrete che ce la faranno, magari non quest'anno però. E quindi ci sta. Poi ha un procuratore particolarmente aggressivo. Mi è sembrato giusta la strategia del Milan, così come per esempio mi è sembrato giusto al momento aspettare nel rinnovo a Romagnoli. Vuole molti soldi, non è ben chiaro quale possa essere il suo contributo, ha fatto molto bene le prime volte, i primi anni e poi invece nell'ultimo anno e mezzo molto male. Perché rinnovare tutti i costi? Ecco, però la politica del rinvio, del rinnovo è stata invece clamorosamente sbagliata per Celanoglu e perché sì. E insomma questi sono due giocatori che hanno oggettivamente un valore di mercato diciamo intorno ai Celanoglu 20, 25 milioni di euro e che sì, chi lo sa, 40, 50. Ecco, certamente se entrambi fosse stata fatta una proposta un anno e mezzo fa avrebbero accettato cifre ragionevoli. Cioè Celanoglu avrebbe firmato un'estensione di due o tre anni per 4 milioni, 4 milioni e mezzo e che sì, a sua volta avrebbe prolungato il suo contratto. Se gli fosse stato proposto un anno e mezzo fa, ricordiamo che prende 2 milioni e 2, se gli fosse stato proposto 4 milioni e anche lui 4 milioni e mezzo avrebbe detto sì. Può anche darsi che avrebbe detto sì subito a giugno, se ne fossero stati proposti 6, anziché prima 3 e mezzo, poi 4, poi 4 e 2. E qui in questo il Milan ha dormito, hanno dormito i dirigenti, forse la proprietà, questo non lo sappiamo, non ce lo diranno mai, forse la proprietà ha dato degli input molto chiari. Certo che per esempio la vicenda che sì, quando il Milan si è buttato all'ultimo momento, al rialzo, è stata sbagliata. Perché? Perché più si avvicina, e questo il Milan ha sbagliato a livello dirigenziale, o quantomeno i dirigenti non sono riusciti a farlo capire alla società, quanto più si avvicina la scadenza del contratto, tanto maggiore è la forza contrattuale del manager, del loro agente. Quindi se tu prendi il manager di Cassi e gli dici a dicembre del 2019, guarda, prolunghiamo di altri 3 anni, da 2-2 e passiamo a 4, ti dice sì. Se lo dici a 6 mesi, soprattutto dopo il campionato che ha fatto, ti dice no. No, la obiezione, ma c'è stato il Covid, è molto relativa, perché certamente altri club, pensate, la Lazio con Milinkovic-Savic, in pieno Covid, scusate, ha rinnovato il contratto. E evidentemente tutto questo fa capire che c'è stata una grave dimenticanza. Qualcuno dice sì, ma nel frattempo il Milan ha cambiato diversi direttori sportivi. C'era Leonardo, poi c'è stato Boban, poi è arrivato Massara con Maldini plenipotenziario. Però questa è una colpa, nel senso che la proprietà ha fatto una serie di scelte sbagliate dall'inizio. Leonardo scelta obbligata, non sapevano in poco tempo chi prendere. Ci può stare, anche se si capiva bene dall'inizio che Leonardo non era l'uomo giusto. Poi l'avventura di Boban, che non aveva mai fatto quel mestiere, preso soltanto in virtù del fatto che fosse vicepresidente dell'UEFA, è una persona intelligente, anche qui ha lasciato molto a desiderare. Quindi il Milan ha sbagliato, ha sbagliato molto e ormai credo che, da quello che abbiamo capito e dalle notizie che in esclusiva ha dato proprio a qui studio voi stadio, Davide Russo De Cerame, che sì, ormai si è perso. La Juventus. Ecco, la Juventus, su di Bala a me ricorda un po' il discorso di Donnarumma. Cioè, è giusto che la Juventus faccia un'offerta ragionevole e non vada oltre. Anche perché di Bala deve ancora dimostrare definitivamente se è un fenomeno oppure no. Allora, essere pagato da fenomeno e non esserlo è un grosso rischio. Voi provate a immaginare una Juventus che dia a di Bala 10-12 milioni di euro netti per i prossimi 4 anni. Se di Bala giocasse come negli ultimi due, tra infortuni e discontinuità, sarebbe un clamoroso autogol. Se di Bala è veramente bravo e vuole fare veramente bene, lo faccia adesso e poi la Juventus, magari a dicembre, proverà, se lui fa la differenza, a dargli i soldi che vuole. Ma adesso a scatola chiusa, secondo me, sarebbe un errore. E' venendo l'Inter. E l'Inter deve rinnovare Brozovic. Brozovic è nella stessa situazione di Castillo. In questo io credo che sia molto importante anche la diplomazia. Quella che forse è un po' mancata a Maldini. Maldini, come voi sapete, a un certo punto si è talmente infuriato col procuratore di Chessy che non va neanche più agli incontri. Negli ultimi incontri è andato soltanto Massara. Un dirigente non può offendersi in queste cose. Deve avere una capacità relazionale. Quella capacità che, per esempio, forse è mancata nella vicenda Cialanoglu. Quando Mina si è accorto troppo tardi, evidentemente perché non aveva un rapporto solido con la gente di Cialanoglu, che si era inserita all'Inter, surrettiziamente. Ecco, l'Inter ha il problema di Brozovic. Anche qui, certamente, se Brozovic dovesse andarsene a parametro zero sarebbe un errore. Né più né meno di quello del Milan con Chessy. Poi c'è l'altro rinnovo che, secondo me, deve essere fatto abbastanza celermente dopo quello di Lautaro. Aspettiamo le definizioni. Poi, insomma, vengono dati spesso annunci che in qualche modo poi sono disattesi. Però, aspettiamo di capire, dopo Lautaro, Barella. Su Barella l'Inter non può dormire perché oggi Barella è quello che era Chessy un anno e mezzo fa, forse anche qualcosa in più, perché Barella è un punto forte anche della nazionale. Ecco, sul rinnovo di Barella si misurerà ancora una volta la capacità manageriale dell'Inter rispetto a quella del Milan. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Grazie.